In realtà ci aspettavamo di trovarlo chiuso perché c'è stata questa bellissima inaugurazione in Pompamagna qualche giorno fa proprio in prossimità ormai delle elezioni si è inaugurato questo nuovo distretto sanitario ma in realtà invece abbiamo trovato la situazione di sempre. Operatori sanitari e pazienti continuano ad operare in una struttura con spazi inadeguati nonostante ci sia un distretto sanitario nuovo di Zecca a disposizione. Secondo il Movimento 5 Stelle il nuovo distretto sanitario per l'appunto è una scatola vuota. I pentastellati così attaccano l'amministrazione uscente di centrodestra rispetto a quella che il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari definisce un'inaugurazione farsa del nuovo distretto sanitario. Chiediamo con forza all'assessore regionale della sanità, al presidente di regione di trasferire tutti i servizi che stanno presso questo vecchio distretto al nuovo altrimenti non si capisce. Questa è una cosa che ho definito farsa, sì, ma anche vergognosa perché non si fanno queste cose. Quando si inaugura una struttura si inaugura e si trasferiscono tutti i servizi dalla vecchia alla nuova struttura. Ecco, noi negli anni abbiamo chiesto anche un ecografo abbiamo chiesto apparecchiature, non ci sono state concesse. Ci auguriamo che presto venga anche dotato il nuovo distretto di un ecografo che potrebbe risolvere tanti problemi. I distretti sanitari servono a non fare entrare tutti i ricoveri inappropriati, gli accessi inappropriati negli ospedali maggiori. In qualche modo si vuole dimostrare un'efficienza che non c'è. Noi come Movimento 5 Stelle sono anni che denunciamo queste incongruenze. Questa situazione è stata attenzionata più volte anche a livello regionale dal nostro consigliere Domenico Pettinari e ormai siamo così come sempre sorpresi invece da una classe politica che si ostina a rappresentare una realtà che non c'è.